Sono giunti a quota 9 i rinvii per l'apertura delle buste della gara relativa al primo lotto dei lavori per il ripascimento del litorale di Salerno. La provincia di Salerno ha fissato al 21 dicembre la nuova data per l'espletamento delle procedure del bando, scaduto lo scorso luglio e riguardante il tratto compreso fra la foce del Picentino e Magazzeno nel territorio del comune di Ponte Cagnano. Ignote le ragioni del rinvio. Il documento di Palazzo Sant'Agostino infatti non fa riferimento ad alcuna motivazione, fissando semplicemente una nuova data in agenda. Una situazione piuttosto singolare che ad ogni rinvio si tinge sempre più di giallo.